Ok, ok, prima che inizia il video vi voglio dire che so che probabilmente non mi conoscete, ma fidatevi di me, abbassate il volume delle orecchie, abbassate il volume delle cuffie prima di ascoltare il video e niente, vi lascio al video, buona visione e buona perdita di udito. R.V. Non basta per battere Nicolo. Nicolo! No, 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 fermo. Oddio. Nicolo! 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 No, 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 raga, ho paura. No, raga, ho paura. No, raga, ho paura, calmi. No, raga! Nicolo! Nicolo! R.V! No, 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 mi sto sentendo male. No, mi sto sentendo male, raga. No, raga! Mi sto sentendo! No, calma, 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 calma. No, raga, calma, calma, calma. Mi sto gasando, raga. Mi sto gasando, raga. Calma. Calma. No, raga. Raga, raga, ha buttato il 20, raga. 10, 20. Fra, fra. Nicolo è un pazzo, fra. Ehm. Beh, ragazzi, questa è la storia scientifica in cui Crazy prende la sedia e la rompe. 3, 2, 1. Aaaaaaah! 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 Rosso! 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 Bellamente 100 euro R.V. È finita per te, bro. È finita, bro. Aaaaaaah! Raga! No, fra. No, fra. Non mi dire che lui è tornato. Fra, è tornato. Fra, forse vuole battere il top. Top settimanale, fra. No, no, no. Non mi dire che butta il secondo rosso. Non lo fa. Cioè, solo una persona è riuscita. Però, raga, potrebbe essere lui la vera leggenda. Cioè, è impossibile. Io sto tremando. Io, io, bro, io non so che dire, cioè. Via! Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Minitopero che devo interrompere il video. Ma non in questo modo. Ehi, tu che mi stai ascoltando, ti devo dire una cosa al volo. Sapevi che da oggi è possibile giocare a FPS assurdi? Infatti, per tutti quelli che hanno problemi di PC, insomma, che non gli regge, gli si blocca, non funziona... Potete provare il primo link in descrizione Boosteroid Ora che c'è i server in Italia Riuscirete a giocare con FPS Veramente veramente assurdi Infatti Boosteroid non è altro che un cloud gaming Che vi permette di giocare ai vostri giochi preferiti Fortnite, FIFA, Call of Duty Dal vostro computer Su un altro computer Quindi è veramente veramente semplice Cioè Boosteroid mette a disposizione PC potenti Come potete giocarci direttamente dal vostro PC o smartphone Raga cliccate il primo link in descrizione Perché è veramente qualcosa di assurdo Io l'ho provato e vi posso dire che funziona Affidatevi di me Primo link in descrizione Cliccatelo anche solo per guardarlo Non dovete per forza scaricarlo Cliccate e vedete cos'è Boosteroid Perché veramente con 3-4 euro Rimarrete veramente scioccati ed emozionati Fidatevi del vostro matto Buon, buon, buon Boosteroidata Primo link in descrizione No, non ci vedo Un altro Un altro Un altro Un altro Non mi sento male Non ci posso Non ci posso Cosa? 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 Il quarto Ci mancano i 50 euro Gli manca il cinquantone No, non lo può fare Il ventone gli manca Cosa? 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 Crazy Stai sognando Cioè, fra grazie Diana per esenzione Raga Cioè Gli mancano 27 euro per la top mensile Bro Dai, so Non si può confondere all'ultimo Se batte sempre Edric Io mi metto a ridere A piangere, non a ridere No, raga Non lo fa affidato Raga 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 Dai, mico, sei tutti noi La gente La gente Ci crede tantissimo In lui No, non è impossibile Io no, io no Sento già freddo, eh Freddo e caldo contemporaneamente Non so se mi spiego È impossibile, raga No, raga Entra nella storia del mio canale Cioè Che dire No, è impossibile Io non ci credo Cioè Sì, io per carità credo In lui Però No Possiamo osservare tutti Un esemplare di Crazy Mad In shock anafilattico Che sta cercando di Renderizzare Nella sua testa Il 500 euro Sparato da Nicolò E Presto vedrete Che cadrà la ruota Lì dietro Non vorrei essere In quella ruota No, no Ruota No, no La ruota No, la ruota E vabbè Niente È morta la ruota No, il pallone Il pallone Bro, ma No, non si fa così Vabbè La vi lascio A Crazy che Sta ancora renderizzando Nella sua testa Non ci fa così In No, no Mi lascio Vi consiglio di abbassare il volume No, questa volta davvero Abbassatelo 500 Sì, qui c'è? Sì, qui c'è? Sì, qui c'è? Sì, qui c'è? No raga No raga Sì, qui c'è? Sì, qui c'è? Sì, qui c'è? Qui c'è? Sì, 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 qui c'è?